Lettrici e lettori di Ruminanzia, oggi abbiamo un'altra puntata di questi webinar, di queste video interviste. Oggi abbiamo voluto disturbare il dottor Andrea Rosati per una serie poi di motivi. Adesso dico il motivo quello un po' ufficiale. Andrea Rosati è il segretario generale della European Federation of Animal Sciences, cioè la federazione europea degli accademici, comunque di quelli che si occupano delle scienze animali e soprattutto ovviamente degli animali da produzione, da reddito, quello che sono oggetto di interesse vostro, lettori, il nostro diciamo di editore. Ma in più è anche il segretario generale della World Association of Animal Production, quindi un'organizzazione ancora più vasta. L'orgoglio è che Andrea Rosati è un italiano, quindi è un nostro compatriota e quindi che un italiano occupi questi ruoli importanti a livello sia europeo che mondiale, insomma, per noi è ancora un motivo di orgoglio. Ma al di là di questo aspetto Andrea Rosati che io conosco e quindi ci daremo del tuo e quindi sarà Andrea e D'Alessandro che stanno discutendo di questo. Conosco la sua storia e la sua storia diciamo culturale e quindi è in grado appunto di rispondere alle domande, alle semplici domande che gli poniamo. Perché proprio adesso abbiamo deciso di fare un'intervista ad Andrea Rosati, al dottore Andrea Rosati? Perché ieri, e l'abbiamo pubblicato anche su Luminanzia, c'è stato il discorso allo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Un discorso importante, un discorso fatto ovviamente in sessione plenaria al Parlamento Europeo, perché ha dato quelli che sono un po' gli indirizzi di quella che sarà l'evoluzione della Comunità Europea, ma soprattutto dove verranno destinati l'ingente quantità di fondi che la Comunità Europea mette a disposizione per lo sviluppo. Mi sono preso degli appunti, parliamo di 750 miliardi di euro in particolare e di questi 750 miliardi di euro il 37%, quindi 277 miliardi verranno destinati ad accompagnare questo percorso di riconversione verso il green, che abbiamo spesso sentito dire la green new deal della Comunità Europea. Ovviamente green è inteso di tutto, green agricoltura, green industria, cioè in pratica di aumentare quella che è la sostenibilità ambientale di quelle che sono tutte le attività umane. A noi interessano ovviamente la sostenibilità ambientale di quello che è la produzione del cibo, soprattutto del cibo di origine animale. Il restante il 20%, che è una cifra importantissima dei fondi che la Comunità Europea destinerà, tutto ciò è il digitale. Quindi il digitale e la green economy assorbiranno più del 50% di tutte le risorse che la Comunità Europea mette a disposizione da qui in poi. l'allevamento, diciamo, degli animali da reddito, in particolare dei ruminanti che non interessano, diciamo, è sotto accusa, no, Andrea, di essere altamente impattante, al di là poi dei numeri che sono discordanti, ma diciamo che è considerato impattante. Quindi probabilmente una riconversione verso una maggiore sostenibilità, soprattutto dell'allevamento, quello che viene definito intensivo, ma che è un termine abbastanza purtroppo usato male, e vedrà coinvolta tutta la Comunità scientifica, non solo europea, ma mondiale. Quindi affinché gli allevamenti possano, diciamo, iniziare questo percorso virtuoso verso una sostenibilità. La Commissione Europea addirittura si è data l'impegno di arrivare al 2050 a impatto climatico zero, quindi è un impegno importante. Quindi la Comunità scientifica che si occupa di produzione animale è un attore fondamentale, rappresenterà per tutti noi una linea di guida. Quindi volevo chiedere ad Andrea cosa sta succedendo nell'ambito appunto della federazione di cui tu sei il segretario, cioè quale è il livello di attenzione che si sta ponendo in questo percorso complesso? Ciao Alessandro, quindi come detto tu ci diamo, ci siamo diamo del tu sempre, ce lo diamo anche in questa occasione. Mi onore, mi fa piacere. Grazie per le belle parole che hai speso e veniamo invece alle cose che importano i nostri, i tuoi lettori, su questa rivista che seguono sempre molto interessi. Grazie. No, no, ma lo dico non per piageria o per amicizia, è un punto di riferimento almeno mio, ma immagino che lo sia almeno delle persone che stanno guardando in questo momento lo sanno anche loro benissimo. Prima cosa mi viene da dire che questa scelta della Commissione, diciamo che un po' ce l'aspettavamo tutti perché era nell'aria. Da cittadino più che da zootecnico, delle persone che si occupano di queste materie, sono molto contento perché l'impatto ambientale zero nel 2050 è un obiettivo che ci dovrebbero porre un po' tutti, non solamente noi europei, ma speriamo che come spesso facciamo funzioniamo da esempio anche per gli altri continenti. A volte l'abbiamo fatto per motivi nel passato negativi, speriamo che questo sia invece un esempio positivo che gli altri seguano. E quindi veniamo invece al settore nostro. non è una cosa semplice, una riconversione verso un impatto ambientale zero o comunque ridotto. Essendo una cosa poco semplice, una cosa che va ad impattare su un'industria complessa, complicata, frastagliata, diversificata in funzione anche dalla geografia, dal mercato in tutta Europa, sicuramente c'è bisogno di una expertise elevata, non si possono utilizzare le stesse expertise. Dico una cosa e sarò smentito dagli addetti ai lavori, ma immagino che per ridurre l'impatto di un motore diesel, una volta che uno ha ridotto l'impatto di un motore diesel, più o meno sullo stesso motore si usa in tutto il mondo. Se uno riduce l'impatto di una razza da latte o una razza suina in Europa, con una sua specificità produttiva, con un tipo di alimentazione, un tipo di sistemi di allevamento, è un conto, in Vietnam è un altro conto e in Argentina è un altro conto ancora. Quindi c'è una difficoltà nel capire bene cosa bisogna fare che richiede uno sforzo enorme da un punto di vista scientifico. Per cui mi auguro che questo, la Presidente essa, o Presidente della Commissione Europea, lo capisca e destini dei fondi alla ricerca. Siamo tutti affamati di fondi di ricerca, è chiaro che sia così, anche se ce ne danno mille, avremo mille e dieci. Però oggettivamente non ci è dato moltissimo, perché per decenni si è pensato che la produzione non fosse più un problema. Adesso però cercano di spingerci in questa strategia di diminuire l'impatto ambientale, che è positivo, ed è questo molto importante anche, che i nostri tecnici, i nostri ricercatori capiscono che dobbiamo andare in quella direzione. Cioè le ricerche devono andare nel miglioramento della qualità, tutte queste cose, importantissime per carità, però anche l'importanza di fare ricerca per diminuire l'impatto ambientale della nostra zootecnia. Quindi la domanda che facevi è come si sta preparando la FETS, la Federazione della Zootecnia, OEAP in inglese, a questa cosa. Stiamo attivandoci proprio per seguire e magari anche laddove è possibile guidare questo cambiamento. Abbiamo partecipato a alcuni progetti di ricerca europea, di cui noi facciamo parte di disseminazione, che andavano già in questa direzione. Stiamo pensando di creare, noi viviamo con delle commissioni di studio, abbiamo 11 commissioni di studio, bovini, suini, recentemente anche insetti, alimentazione, genetica. Stiamo pensando di aprirne una sull'impatto ambientale della zootecnia, proprio per cercare di seguire questa cosa, per dargli quell'enfasi che è necessaria. Poi quello che noi facciamo come federazione è quella di creare una piattaforma di scambio culturale e scientifico tra i vari ricercatori europei. Noi abbiamo circa 4.000 membri, in giro 4.000 soci in giro per l'Europa, di creare appunto una piattaforma per poter scambiarsi informazioni e questo sappiamo tutti da secoli, che quando due scienziati si parlano non tornano a casa con la stessa quantità di scienze che avevamo da su un partito, ma non raddoppiata, ma quasi. Certo. Un'altra domanda, Andrea. C'è un altro argomento caldo, che è quello del benessere animale, soprattutto del benessere ovviamente degli animalità reti. Cosa c'è di nuovo? Perché l'Italia si è mossa, è stata fatta una valutazione sistematica, almeno negli allenamenti di buoni da latte, usando il metodo proposto appunto dal cremba, però sembrerebbe almeno così dai dati che escono che, diciamo, è difficile comunicare al consumatore questo aspetto. Probabilmente ci vorranno dei sforzi maggiori in questo, perché il benessere animale in effetti è un claim che sta condizionando molto il comportamento d'acquisto dei consumatori. Su questo fronte, la tua federazione cosa sta facendo? Quali possono essere le indicazioni che ci potete dare? L'anno scorso abbiamo fatto il convegno annuale a Ghent, in Belgio. La sessione plenaria, che tra l'altro è visitabile su YouTube completa, una sessione molto importante, con un migliaio di partecipanti e quattro invited speakers da varie zone d'Europa, del mondo scusate, e si è focalizzata proprio su questo argomento. Abbiamo ospitato diverse visioni del welfare e della parte etica, a partire dal guru dei vegani, che è un tale Gary Francione, è un filosofo americano, di origine italiana, il cognome lo denuncia, che è iniziato dicendo, vi invito a guardarla, perché è veramente interessante, è iniziato la sua relazione dicendo che l'animale non può essere una proprietà dell'uomo. Allora, se l'animale non è una proprietà dell'uomo, cambia completamente tutto quello che noi facciamo, cioè non ha senso allevare, non potremo vendere, non potremo acquistare, non potremo sfruttare gli animali per fare il latte, non potremo macellarli per fare la carne. Partendo da questa situazione che magari molti nella società civile potrebbero condividere, cioè se noi prendiamo una società civile e diciamo questa cosa, l'animale non deve essere una proprietà dell'uomo perché è un essere senziente, un essere che ha un suo spessore etico, andando nella società civile questo viene accettato. Se viene accettato questo come da una buona parte, io sono convinto più della metà della gente direbbe sì, è vero, l'animale non deve essere una proprietà dell'uomo. Tutto il resto, quello che ci ha detto questo vegano, è giusto perché una volta fatta la prima, come quando ti metti una camicia, sbagli il primo bottone, arrivi alla fine tutti sbagliati. Allora se tu sbagli il primo concetto, poi tutti gli altri concetti che sono legati in modo logico l'uno all'altro, poi alla fine sono tutti errati e ti porta completamente fuori strada. Questa è una tecnica che usano molto chi vuole convincere che allevare animali è sbagliato. Noi l'abbiamo invitato a questo convegno l'anno scorso, nonostante qualcuno dicessimo che siete pazzi, date fiato a queste persone, date voce a queste persone che la pensano contro la zootecnia, proprio perché diversamente da loro, e qui prendo le belle distanze, diversamente da loro ci piace parlare con la gente, ci piace confrontarsi, sentire diverse opinioni, poi uno rimane alla propria opinione. Però ho fatto questo antefatto perché voglio arrivare al punto dicendo che qualsiasi cosa noi facciamo nel ricercare il benessere dell'animale, per migliorare le condizioni di benessere dell'animale, di migliorare anche le produzioni, condizioni sanitarie e tutte queste altre cose, non ci dobbiamo dimenticare che l'obiettivo che la società si aspetta e quindi il consumatore si aspetta, non è migliore condizioni sanitarie, migliore produzioni e così via, è che l'animale deve stare secondo il loro concetto bene, deve avere un benessere accettato da tutti, che non è quello che uno zootecno, un allevatore conosce. Cioè quando fanno vedere in televisione delle galline che allevano a terra su un prato verde, ma sei mai vista una gallina su un prato verde? Le galline non stanno sui prati verdi. Però passa questo concetto in televisione e quello pensa che sia il benessere della gallina. Noi sappiamo che non è così, che comunque se noi apriamo una stalla, gli animali stanno quasi sempre dentro la stalla perché si sentono sicuri, magari vanno fuori, pascono un po' e poi ritornano in stalla perché si sentono coperti, sicuri. Però per loro il benessere dell'animale è vedere la vacca in cima, anzi la mucca come dicono loro sbagliando, in cima a qualche pascolo alpino e magari con il sonaglio al collo. Quindi ci sono concetti ben diversi. Noi dobbiamo pensare, sì, e questa è la discrasia che è importante, di cui ci troviamo di fronte spesso, che da una parte la parte scientifica dice sì il benessere è essere fatto così perché l'animale, dall'altra parte è quello che si aspettano i consumatori, la società civile che è diverso e questo equivoco è lì il punto di equilibrio dove la giochiamo spesso, dove spesso pecchiamo perché se vanno le telecamere a vedere un'azienda di bovini da latte, io sono stato la settimana scorsa a vedere un'azienda di bufali da latte molto avanzata, benissimo, sono tenuti benissimo, ma se va una telecamera a riprenderli là dentro e la piazzano in prima serata pensano che siamo dei terribili macellai o nazisti, gli allevatori sono la peggiore razza che ci sia, e non è così, non è così, però è il cambiamento della mentalità della società civile sulla quale dobbiamo lavorare, che è molto importante perché poi non solo sono consumatori, ma sono anche quelli che votano, quelli che poi fanno le leggi a favore o contro la zootecnia, a favore o contro finanziamenti della ricerca in zootecnia, quindi lì dobbiamo lavorare molto, fake news, tutte queste cose, c'è molto da lavorare in questi termini in una buona disseminazione, in una buona disseminazione un po' come quella che fai tu Alessandro, adesso ripeto, non te lo dico per piaggeria, perché purtroppo spesso la disseminazione che facciamo è tra gli addetti ai lavori, che sia utile, ma bisogna cercare anche di sporcarsi le mani, come diceva qualcuno nel passato, e andare nella società civile e spiegargli bene come stanno le cose. E' un compito più difficile questo. Sì, Andrea, proprio mi hai anticipato veramente l'ultima domanda, perché se posso fare una critica, cioè io ho la convinzione, penso che Ruminanza lo stia anche dimostrando, che è importante che ciò che la comunità scientifica pensa e ricerca e quindi mette a punto, deve scendere, diciamo, nel mondo produttivo e nella società civile, altrimenti si crea una frattura e questo probabilmente è avvenuto. Io ho scritto un duro articolo sul Covid, attribuendo anche purtroppo alla comunità scientifica non l'impreparazione, perché la scienza ha poche certezze per certi aspetti, però il fatto che si sia stata una rappresentazione contrastante di fronte a un virus sconosciuto, dove forse l'atteggiamento migliore era a dire non lo so cosa sta facendo, chi lo conosce, chi l'ha mai visto. Quindi nell'ambito della federazione di cui appunto tu sei il segretario, quindi della European Federation of Animal Science, quindi è un'organizzazione molto, molto importante a livello europeo, la comunità scientifica si sta, secondo te, ponendo veramente il problema e l'urgenza che deve scendere in campo, cioè che il suo parlare, le sue idee, anche la sua metodologia sia un po' più chiara alla gente, perché effettivamente quella del Covid è stata veramente una situazione che si è vista nella sua fragilità. A fronte di un problema, ovviamente tutti cercavamo dalla comunità scientifica, ma poi la comunità scientifica che si è imposta è quella che dava delle certezze, quando le certezze è con un virus nuovo, come fai l'AVL tuttora e c'è di certo. Quindi c'è questa sensibilità maggiore adesso, secondo me, Andrea? Ma le certezze la scienza non le dà. Adesso voglio andare a Bertrand Russell o altri filosofi della scienza. Le certezze la scienza non le dà. La scienza si avvicina quanto più possibile alla soluzione, ma non arriva mai alla soluzione del problema, perché se no non sarebbe scienza, sarebbe un dogma e quella si chiama religione, è diversa, sono concetti diversi. Partendo da questa cosa, che anch'io sono rimasto male dall'atteggiamento dei ricercatori nella gestione della comunicazione dal Covid, ma magari spinti anche dai giornalisti che li premevano, facevano leva sulla volontà della gente di mostrarsi in tv e così via. Però, al di là di questo, tornando a noi, alla Federazione Europea di Zotecnia, posso dire appunto che nel network europeo, cioè non c'è solamente questo come associazione europea di Zotecnia, posso dire che effettivamente c'è una maggiore sensibilità oggi rispetto a quella che era nel passato. La generazione passata, un po' la mia, ancora più quella precedente, la mia, e non aveva molto questa voglia di uscire dalla Torre d'Avorio, parlo in generalizzando ovviamente, e poi ci sono ovviamente degli esempi diversi, di uscire dalla Torre d'Avorio della scienza e dire io faccio lo scienziato, chi sei tu che vuoi, ho ragione io e basta, devi ascoltare. Oggi ci sono i giovani che hanno capito, diciamo quelli attorno ai 30, anche fino ai 40 anni, una generazione buona che ha capito che bisogna iniziare a disseminare e parlare con le persone. Ed è molto molto importante questa cosa, perché poi, ecco, a un riscontro di positivi si potranno vedere sia sulle legislazioni, i finanziamenti alla Zotecnia e alla ricerca in Zotecnia. Però a livello proprio strategico bisogna cercare di farle queste cose quanto più possibile e chi ha una possibilità, come tu con la tua giorno, con la tua rivista, io con la mia associazione e così via, di cercare di arrivare alla gente comune. Ci sono anche questi, molti webinar che sono nati, che danno una mano, voglio dire, molti allevatori, io ho seguito un paio di webinar di allevatori italiani che si incontrano puntualmente, una volta alla settimana e così via, e serve appunto per parlare da ricercatori agli allevatori. Non è ancora la società civile, ma pian pianino ci si può arrivare questa cosa. È un passaggio culturale, come tutti i passaggi culturali, hanno bisogno di anni e anni di preparazione. Però diciamo che stiamo andando in quella direzione. Bene. Andrea, io ti ringrazio, tu hai sempre il tempo centellinato, è un'attività piuttosto frenetica, quindi trovarti mezz'ora libero è difficile, ma noi ti ringraziamo, io ti ringrazio anche al nome di tutti i nostri lettori, e con la richiesta che se abbiamo bisogno ti disturberemo ancora, Andrea. Io sono molto contento di dare una mano nel mio piccolissima possibilità, e sono onorato di averti, che tu mi hai invitato a dire queste cose, quando vorrai sono sempre a disposizione. Il tempo lo trovo per te, lo trovo sempre, stai tranquillo. Grazie Andrea, veramente grazie. Buona serata allora. Ciao Alessandro, ciao ciao. Ciao. Ciao.